L'Ordine degli Ingegneri di Teramo, dopo un'attenta lettura su alcuni progetti di costruzione e di adeguamento dell'ASL di Teramo per il secondo lotto dell'ospedale Civile di Teramo e su Contrada Casalena, pone all'attenzione alcune presunte illegittimità di questi bandi. Sì, per chiarezza anche l'Ordine degli Architetti partecipa a questa contestazione, sono tre profili di uno, il bando illegittimo per quanto riguarda gli importi messi a base di gara di progettazione, basta pensare che il 5% della progettazione fatta internamente vale quando il restante 95% è la progettazione esternamente, quindi potete capire che c'è un totale profilo di illegittimità, non c'è la chiarezza negli obiettivi da raggiungere, quindi potete capire a quale tipo di contrasto si va incontro e soprattutto ci sono degli importi delle opere messe a gara che non hanno rispondenza sul mercato, voglio dire sono degli importi che molto in mente o l'opera non si fa o forse non si fa secondo i canni dell'opera regola d'arte. Ecco parliamo di 850 mila euro se non sbaglio. Sì, incontrate Casalera, permettete di aggiungere un altro passaggio, noi da circa due mesi abbiamo fatto delle lettere al manager Varrassi e non si è degnato di risponderci e questo ci meraviglia perché stiamo parlando tra enti di, noi siamo enti di diritto pubblico e in tal senso abbiamo dato mandato al legale affinché intervenga per annullare il bando e conseguenze di risarcimento danni. Ecco quindi andate direttamente alla magistratura ordinaria senza passare dal TAR? Sì, le sospensione non le vogliamo più mettere in piedi, andiamo direttamente alla magistratura ordinaria affinché ci sia una congrua valutazione del risarcimento di danni nel merito. Fate un progetto ma fatelo seriamente nel senso che ci date le disposizioni perché noi come ingegneri possiamo partecipare a questo progetto. Il problema nostro che sorge è che se si paga un terzo l'effettiva progettazione c'è il rischio che la qualità della progettazione sia anche di un terzo, cioè nel senso che non si riesce a garantire la progettazione. E poi se esiste una norma di riferimento perché bypassare la norma di riferimento? Solo questo chiediamo. Noi chiediamo il rispetto pieno delle regole.